ma quanto costa un chilo di pasta secondo te? un euro un euro 50 al chilo sei ottimista? da cucinare? che pasta preferisci? spaghetti? che formato di pasta? spaghetti, spaghetti e come ne mangi di solito gli spaghetti? la porchezza ma con chi la mangi sta pasta? la mangi da solo? anche da solo, se si mangia bene anche da solo anche da solo? la compagnia è meglio dai ti viene in mente un film dove si parla di pasta? quella di alberto sordi ma non ricordo il titolo è un americano a roma? un americano a roma ma la pasta la cucini tu o te la fai cucinare? di solito la cucina qualcun altro chi è? è un segreto? può essere